Ma sei sicuro? Sì! Virginia Raggi! È tutta colpa mia. Capita. Però è anche un po' colpa vostra. È anche un po' colpa vostra e di tutti noi se siamo qui. Siamo qui oggi, diciamocelo, insomma, i meriti e le colpe un po' per uno. E oggi è una giornata importante. È importante perché conosceremo il candidato o la candidata alla presidenza della Regione Lazio del Movimento 5 Stelle. Ed è un momento importante perché inizia di fatto la nostra cavalcata per prendere la Regione. Allora, per prima cosa, lo faccio subito, devo fare in bocca al lupo a tutti i candidati. Perché se, oltre ad avere Roma, riusciremo a prendere la Regione. E poi il Parlamento. Signori, non ce ne sarà più per nessuno. Abbiamo iniziato un lavoro importante. Come vi hanno detto i sindaci che erano qui prima di me, ciascuno di loro, ciascuno di noi ha ereditato una città più o meno in macerie. Ed è un compito difficilissimo quello che ci siamo assunti. Ci siamo assunti noi e voi, insomma, no? Abbiamo detto, dividiamo meriti e colpe. Insomma, se siamo qui è colpa o merito vostro, diciamolo. E il nostro lavoro è principalmente fatto di due attività. Da un lato noi dobbiamo alzare i tappeti. Alzare i tappeti perché sotto c'è tantissima polvere. Noi ogni giorno continuiamo ad alzare i tappeti, ne abbiamo talmente tanti. Io non so neanche più. La scorsa settimana, lunedì o martedì, siamo andati in procura a depositare un ennesimo esposto. E questo è parte del nostro compito. Un'altra parte, molto, molto importante, è quella di programmare e riorganizzare. Allora, io da quando ero in campagna elettorale l'ho sempre detto. Per me i cento giorni non contano. Non possiamo misurare i risultati in cento giorni. Perché? Perché la legge ci chiede delle procedure particolari, no? Per esempio gli appalti, per dire, che hanno dei tempi ben codificati. Beh, in cento giorni non si fa nulla. E allora bisogna chiedersi, quando iniziano a dire, ah ma in cento giorni, in sei mesi, bisogna chiedersi, hai sensi di legge, cosa avrei potuto fare in tre mesi? Quindi, forse niente, forse si aspettavano che alzassimo la cornetta come facevano loro, come facevano quelli che c'erano prima. E noi abbiamo detto no. Con molta, molta, io lo so, con molta difficoltà abbiamo detto le cose e si iniziano a fare bene. Ed è difficile, perché sapere di non poter dare una risposta immediata a bisogni e domande che sono rimaste inascoltate per tanto tempo, è veramente difficile, perché, diciamolo, arrivano le critiche. Scusa, ma io è un anno che chiedo questa cosa, è vero, io sono arrivata ieri, ma no? E però bisogna farlo. Noi ci siamo assunti con molto coraggio la responsabilità di dire le cose stavolta si fanno per bene. Vi voglio raccontare una storia, una storia che è un po' emblematica e riguarda un po' il nostro servizio giardini. Come sapete, Roma ha un patrimonio arboreo e verde sterminato. Il servizio giardini, parecchi anni fa, era composto di circa 3.000 unità, 3.000 uomini. Erano il vanto dell'amministrazione, i giardinieri di Roma Capitale erano bravissimi. Nel tempo i giardinieri chiaramente sono andati in pensione. E invece di riassumerli, hanno iniziato ad affidare all'esterno, quindi tramite appalti, la manutenzione del verde. Ed è chiaro perché è un servizio assai remunerativo, con tutto il verde che c'è a Roma si guadagna tantissimo. Quando noi siamo arrivati il servizio giardini contava circa 300 persone di cui, oggettivamente abili per fare lavori pesanti, poco meno di 180 persone. Niente, veramente niente. Tutto il resto era affidato ad appalti esterni, alcuni dei quali, molti dei quali, alle cooperative di Buzzi e Carminati. Quindi tutto finito, tutto finito davvero. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto ovviamente due cose. Da un lato abbiamo riattivato nuovi appalti e nuove gare e purtroppo ci vuole tempo. Però piano piano stanno iniziando ad andare in aggiudicazione. Alcuni peraltro erano stati attivati addirittura da tronca, quindi seguivano il vecchio codice degli appalti che è stato pubblicato ad aprile del 2016. Poi ad aprile, a maggio del 2017, è stato completamente modificato. I nostri parlamentari lo sanno benissimo. Quindi abbiamo dovuto revocare gli appalti in corso, modificare completamente i bandi per adeguarli alla nuova normativa e ripubblicarli. Immaginate il tempo perso. Ma questo fa parte del nostro lavoro. E poi abbiamo iniziato ad assumere. Come ho sentito prima, diceva il sindaco Fucci, siamo capitati nell'era della spending review, che per quanto riguarda il personale significa limiti assunzionali. Noi di fatto non possiamo assumere. Quindi qualcuno poi ci dovrà spiegare bene se vuole che noi sindaci andiamo a tagliare, a potare i rami, perché se non possiamo assumere, per fare i bandi ci vuole un po' di tempo, nel frattempo qualcosa dobbiamo fare. Allora siamo riusciti a trovare 50 manutentori del verde. Siamo riusciti a prendere 30 giardinieri tramite l'ufficio di collocamento. Adesso stanno arrivando altre persone. Abbiamo attivato, era fermo da tantissimo tempo, abbiamo attivato il bando per la manutenzione, la verifica di oltre 82.000 alberature e già ne sono state controllate 15.000. E abbiamo visto che di queste 15.000 circa 300 devono essere abbattute, perché sono vecchi. Sono ormai arrivati alla fine del loro ciclo di vita e stiamo lavorando. È un lavoro che, come dire, è infinito. Cioè si comincia e poi dovrà continuare in maniera costante. La manutenzione del verde deve diventare un'attività ordinaria, di manutenzione ordinaria da fare sempre. E quando questo avverrà, non se ne parlerà neanche più, perché sarà una cosa normale e tutti i cittadini saranno abituati a vederne gli effetti. Oggi ancora siamo nella straordinarietà di ripristinare la normalità. Ecco, questo è uno dei compiti più difficili. A volte ci accusano di vantarci, di aver fatto qualcosa di normale. Ebbene, ma Roma, chi ci abita, chi ci viene anche a lavorare lo sa, talvolta anche i parametri della normalità erano completamente saltati. Quindi riuscire a fare qualcosa di normale è straordinario. Stiamo riportando gli autobus a Roma. Abbiamo scoperto, forse prima l'assessore Linda Meleo ve l'avrà detto, abbiamo scoperto in un deposito a Torpagnotta 45 filobus che erano stati comprati circa nel 2009 ed erano rimasti lì abbandonati perché dovevano camminare lungo un corridoio della mobilità che non è mai stato finito. Anche lì appalti truccati, una serie di persone in galera e va bene. Quindi riattiva il bando per la conclusione di questa corsia speciale, di questa corsia per i filobus e nel frattempo abbiamo rimesso per strada questi 45 filobus su altri percorsi. Che cosa facciamo? Li teniamo fermi? Questa è la normalità. Ed è eccezionale quello che stiamo facendo ed è difficilissimo. Ma lo facciamo? E lo facciamo col sorriso e con l'orgoglio di dover e di voler fortemente riportare Roma ad essere una città normale e possibilmente questa normalità dovrà riportare Roma ad essere una grande capitale europea. Questo è del mondo. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo fatto una cosa spettacolare. Quest'anno abbiamo organizzato la Via Paci su una corsa interreligiosa. Peraltro proprio in un periodo in cui sapete bene che gli integralismi stanno avanzando molto velocemente con tutto lo strascico di tragedie che si portano. Ebbene, noi siamo riusciti a convolgere il Vaticano, la comunità ebraica, la comunità ortodossa, la comunità islamica, i buddisti, gli induisti. Abbiamo coinvolto tantissime persone ed esponenti di diverse religioni per organizzare questa corsa. Purtroppo non ne ha parlato nessuno, ma noi siamo orgogliosi di averla organizzata. C'erano 6.000 partecipanti. L'anno prossimo speriamo di raddoppiare il numero e di continuare. Perché anche riuscire a far vedere che in una città come Roma, complessa, stratificata, con tantissime persone che vengono da nazioni assai diverse, si trova il modo di comunicare, di farlo insieme al di là di quelle che sono le differenze, le barriere. Questo per noi è un motivo di orgoglio. Noi siamo stati veramente contenti di riuscire a organizzare tutti insieme questa corsa ed è stata una giornata eccezionale. Eccezionale davvero. Davvero. Stiamo riaprendo, in molti municipi stiamo riaprendo dei nidi e delle scuole materne che erano chiuse da anni perché mancava un'autorizzazione, mancava che l'ufficio prendesse in carico la struttura. Nel frattempo passavano anni, queste strutture venivano occupate, abbandonate, dovevano essere rifatti i lavori. Abbiamo trovato situazioni come queste che si contano, non finiamo di contarle per quante sono e i nostri presidenti di municipio si sono presi la briga di ricominciare da capo e già tre o quattro nidi, quattro forse questa settimana ne inauguriamo un quarto, sono stati riaperti e riconsegnati alla cittadinanza e questo sembrano piccoli gesti ma per noi anche questo è motivo di orgoglio perché sapere di poter dare delle scuole nuove a piccoli utenti, a famiglie, per noi è un grandissimo motivo di orgoglio. Abbiamo fatto una campagna elettorale purtroppo tutta incentrata sulle buche, ve lo ricorderete, anche in America probabilmente parlavano di questa campagna elettorale romana, tutti a parlare di buche. Noi abbiamo attivato le gare d'appalto e piano piano le strade le stiamo riparando, c'è da dire che sono oltre 8.000 km di strade, di cui solo 800 incarico al comune, il resto incarico ai singoli municipi, quindi dobbiamo spostare i soldi dal comune ai municipi, i municipi devono fare le gare, poi si aggiudica e si fanno i lavori. Il percorso è lunghissimo, però moltissime strade ora vedono tutti gli operai al lavoro, vedono i cantieri e quindi piano piano, dopo aver effettuato tutto un lavoro di preparazione, come il contadino che era al campo, poi semina, piano piano qualche piantina cresce, si vede e si vede. Anche questo per noi è motivo di orgoglio, riportare piano piano la normalità in questa città, facendolo a norma di legge. Questo è quello che ci siamo proposti di fare, quello che abbiamo promesso e che ci siamo impegnati a fare in campagna elettorale, questo è quello che stiamo facendo e andiamo avanti a testa bassa, a testa bassa senza distrarci, senza farci distrarre dalle polemiche che ci vorrebbero costantemente in lite, costantemente suddivisi in fazioni, in correnti. Io devo dire che lì dentro non vedo né fazioni né correnti, io vedo i consiglieri, vedo la giunta, vedo i presidenti di municipio con le loro giunte, con i loro consiglieri, tutti lavorare a testa bassa. Correnti sono solo quelle delle finestre, facciamoglielo capire. Io sono convinta che quando, non voglio dire se, quando entreremo in regione, davvero non solo questa città, le altre città del Lazio e la regione Lazio potrà finalmente ripartire e rinascere. Quindi è con tutto il cuore che io faccio i migliori in bocca al lupo al candidato o alla candidata che questa sera sarà designato o designata. E già posso dire, chiaramente come faranno tutti i miei colleghi, che siamo più che pronti a dare tutto il sostegno che serve e che merita perché dobbiamo prenderci questa regione. Prima Ostia e poi questa regione. Ciao!